Ben trovati, buonasera a tutti e tutte da Andrea Camerotto e uno che è volutamente calnierato, poiché mi trovo in un luogo meraviglioso ed anche sacro, quale il Battistero dedicato a San Giovanni Battista della Cattedrale di Padova. Perché questo Battistero è così importante e magnifico da visitare, poiché in realtà lo troviamo accanto al luogo, conserva all'interno uno dei più importanti Cislieri Affreschi che possiamo datare al XIV secolo ed è un capolavoro intero di Giusto de Menabuoi, questo è il nome dell'autore. Tra parentesi, questo ciclo di Affreschi, anche questo ciclo di Affreschi è entrato a far parte dal 2021 dei Patrimoni dell'Umanità Unesco. Veramente come possiamo osservare un ciclo di Affreschi straordinario e al centro possiamo trovare proprio la raffigurazione di San Giovanni Battista, a cui è dedicato l'intero Battistero. Osserviamo l'altare, sito in questo caso rispetto alle nostre riprese di fronte, ma soprattutto sulla volta in alto un Cristo benedicente che, nome che deriva dal greco, definiamo Pantocratore. Se osserviamo con una perfetta simmetria abbiamo il Cristo Pantocratore, la Vergine Maria, la nascita del mondo e poi, poiché siamo in tema pasquale, la crocifissione di Gesù con l'innerri riportato appunto sulla croce. Iesus Nazarenus, Rex Ildeorum, è morto il re dei Giudei. Notiamo anche a livello cromatico queste aureole dorate, questo colpo d'occhio visivo, questa ricchezza di colori e veramente di arte. L'Italia è un paese meraviglioso ed ecco cosa possiamo trovare qui a Padova. Ancora auguro di buona Pasqua ed un saluto a tutti e a tutte voi, sempre da Andrea Cartotto per il Cartotto Educational.